Il contratto di fiume è un elemento importante anche dal punto di vista occupazionale. Per esempio penso a tutte le aree di esondazione per attutire la velocità dell'acqua che va da Belfort a Lisauro al porto di Pesero. Sono diversi milioni di euro di investimenti. Penso alla più grande questione ecologica ambientale che è quella della depurazione delle acque in tutte e due le vallate, direi la vallata del Foglia con la depurazione di Borgeria, di Montecchio e di Schieti e invece di avere 30-40 depuratori con tre depuratori nell'asta fluviale. Per diciamo 30-40 milioni di investimenti, insomma sono investimenti importanti che creano una qualità delle acque dal punto di vista di un fiume che attraversa molte zone industriali e quindi è una grande questione ecologica ambientale. per passare dal sistema calanchivo, gli interventi nel sistema calanchivo per passare alla sistemazione ad un unico progetto diciamo di protezione civile dai beni culturali e la storia di questa vallata e dai rapporti con la vallata dell'Apsa, Petriano, il tavolo come riguarda Tavuglia, Gabice e Gradara quindi un progetto organico complessivo con una mobilità pedonale ciclabile che va da Pesola a Carpegna sono diciamo delle piste per la messa in sicurezza del fiume ma sono vere e proprie piste pedonali ciclabili che danno la possibilità di tutelare meglio la salute facendo attività sportive ma anche di mettere in sicurezza il fiume sia nel periodo invernale che nel periodo estivo e quindi è un progetto organico di diversi milioni di euro di investimenti che migliorano la qualità della vita delle comunità di questa vallata che danno un'idea anche sulle questioni dell'agroalimentare, dell'agricoltura e consentono con l'approvazione definitiva di attivare risorse oltre che di spendere velocemente quelle che sono in corso di attivare risorse dai ministeri e anche soprattutto dall'Unione Europea ecco con la conclusione che è stata approvata all'unanimità l'altro ieri poi adesso ci sarà l'approvazione dei 15-16 consigli comunali quindi la regione può interloquire con lo Stato centrale e con l'Europa per attivare altre risorse, per migliorare la qualità ambientale e la tutela della salute dei cittadini di questa vallata e per contribuire a ritornare alla piena occupazione che è l'assillo che noi abbiamo perché quando tutti hanno un lavoro la situazione è molto più tranquilla e serena grazie a tutti